Buongiorno a tutti, questa è la prima lezione di un corso di formazione che da diversi anni l'Israel organizza insieme alla sezione provinciale di Alessandria dell'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia. Il corso quest'anno si intitola Geopolitica a dinamiche globali e regionali. Io inizio portando anche il saluto del presidente provinciale Evasio Soracci che quest'oggi non ha potuto essere fra noi perché ha qualche problema di salute. Purtroppo noi abbiamo come prima lezione, come primi relatori Luciano Azziruolo e Luigi Bonanate. Il tema di quest'anno del corso riguarda essenzialmente quelle che sono le aree geopolitiche e geostoriche che in quest'ultimo periodo hanno mostrato particolari criticità. Quando abbiamo cominciato a organizzare questo corso ormai nel mese di novembre non potevamo immaginare che alcuni dei temi che avevamo individuati diventassero così, potremmo anche dire tragicamente, di attualità, visto quanto sta accadendo proprio ora insomma in in Ucraina e devo dire comunque ringrazio tutti coloro che si sono iscritti e tutte le persone che sono qui adesso perché effettivamente c'è stata una grande risposta di insegnanti ma anche di persone che ci hanno chiesto di poter partecipare a questo approfondimento. Come dicevo i primi relatori del nostro corso sono Luciano Azziruolo che è il direttore dell'Istituto Storico di Alessandria, dell'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea in provincia di Alessandria che è da molti anni è stata prima insegnante di geografia economica nella scuola secondaria di secondo grado, è direttore dell'Israel da molto tempo, fa parte della redazione della rivista dell'Istituto Quaderno di Storia Contemporanea, fa parte del gruppo di ricerca dell'Aspi che è dell'Università del Piemonte Orientale e ha pubblicato moltissimi saggi su varie riviste e anche libri, l'ultimo dei quali è proprio oltre il saggio che viene pubblicato la curatela di questo volume che vi mostro in maniera molto estemporanea, oltre il muro che raccoglie tra le altre cose interventi di un convegno organizzato dall'Israel il 6 novembre del 2019 a Tortona. Il nostro secondo relatore in realtà non avrebbe bisogno di essere presentato perché è Luigi Bonanate che è stato, che è professore merito nell'Università di Torino, è socio dell'Accademia delle Scienze, ha insegnato relazioni internazionali per più di 40 anni, quindi è la persona più adatta ad aiutarci a capire quella che è la situazione attuale, ha scritto moltissimi libri, io cito giusto Anarchia e democrazia del 2015 di Carocci, di Pinger Guerre, Aragno 2016, ha curato edizioni di scritti di Balzac, di Hollande, di Duccio Galimberti, di tantissimi e come dicevo è un esperto di relazioni internazionali, sul terrorismo, sulla teoria democratica e anche ahimè un esperto insomma di tutte le guerre europee che sono avvenute prima e dopo il 1945. Ricordo in uno dei suoi saggi di parecchi anni fa che contava quante guerre erano effettivamente avvenute dopo la seconda guerra mondiale che avrebbe dovuto porre fine a tutte le guerre e ora saranno molte ma molte di più, temo. Quindi lascio la parola a Luciana Zeruolo per il suo intervento. Grazie, grazie Antonella, buonasera a tutte e a tutti. Quello di cui andiamo a parlare oggi, oltre il muro, il volume che la professoressa Ferraris vi ha mostrato è un volume che è uscito a fine 2020 e che per le ragioni che potete facilmente immaginare non abbiamo mai presentato in pubblico perché ci tenevamo particolarmente a presentarlo ai docenti questo non è stato possibile e così a novembre abbiamo deciso che comunque andasse insomma in questo corso di geostoria e in particolare questo corso di geopolitica di oltre il muro bisognava parlare. Oltre il muro fa parte della nostra nuova collana, collana dell'Israele, il secondo volume attraversare il tempo è il titolo della collana edita dall'Israele da falso piano. Come già anticipava la professoressa Ferraris che è responsabile della nostra sezione didattica e mi fa piacere dirlo a tutti da qualche mese e fa anche parte della commissione didattica nazionale del nostro istituto Ruccio Parri di Milano questo libro nasce da un convegno omonimo che avevamo realizzato come istituto il 6 novembre del 2019 proprio a ridosso nella caduta del muro, l'abbiamo organizzato a Tortona presso la sala della fondazione Cassa di Risparmio era un convegno affollato di studenti e docenti, eravamo più di 250. Abbiamo voluto questo convegno perché a 30 anni dalla caduta del muro ci premeva, ci stava a cuore realizzare un'occasione pubblica di confronto per interpretare il portato del 1989, la fine della guerra fredda, la dissoluzione dell'URSS, la fine del bipolarismo tutti i fili della globalizzazione e nell'ideale la giornata di studio con largo anticipo confrontandoci tra noi quello che ci interessava non era tanto ragionare sull'evento ma quanto individuarlo, questo è un filo che oggi c'è particolarmente presente quanto individuarlo come inizio di processi inizio di processi con una transizione lunga, incompiuta verso dei modelli di democratizzazione politica di cui ho parlato diffusamente nell'introduzione e che nasceva dalle suggestioni, dalle punti di una lettura di Senza il muro Senza il muro, appunti da Jacques Rupnick Ad aprire questo volume, che è diviso in due parti è proprio l'intervento e il contributo del professor Luigi Bonanate come già stato detto, professore merito di relazioni internazionali dell'Università di Torino è un'articolata riflessione, quella di Bonanate di ampio respiro, che non parte dall'89 ma va più indietro parte dal 1975 e in questa sua articolata riflessione sulla nuova architettura dell'ordine internazionale fra le moltissime cose che poi il professore porterà alla vostra attenzione il professor Bonanate ha ricordato come dopo la fine del bipolarismo gli studi abbiano sempre escluso un vero tripolarismo ecco, pensando alla Cina perché questo avrebbe finito per produrre prima o poi l'associazione di due poli contro un terzo e osservava al contempo come il multipolarismo fosse sì più libero ma al contempo troppo poco solido e la sua immagine finale era quella di un puzzle che in questa fase, egli così diceva nel 2019 ancora non consentiva di comporre le tessere del disegno sto andando a colpi di accetta naturalmente ma è soltanto perché voi abbiate in mente quali sono i temi al centro di questo volume un volume che peraltro per chi fosse interessato insomma può essere disponibile con una richiesta mail al nostro istituto dopo il saggio di Bonanate c'era il saggio di Alberto De Bernardi dell'Università di Bologna e anche Alberto De Bernardi parte da questa immagine di un'Europa che è ancora in mezzo al guado un'Europa che nel lungo l'opoguerra seguito alla fine della guerra fredda si trova di fronte a molteplici direzioni per realizzare il sogno dei giovani antifascisti che l'avevano pensata che l'avevano immaginata alla fine della seconda guerra mondiale e pone tra i temi centrali quello delle politiche ambientali comuni perché De Bernardi sostiene che solo diventando un attore globale da mezzo miliardo di persone che concentra una fetta cospicua della ricerca scientifica si può contribuire al miglioramento climatico e poi De Bernardi in modo quasi profetico perché nel novembre 19 di Covid non si parlava sottolineava, sosteneva la necessità di rinunciare alla nostra sovranità sulle politiche sanitarie per poter sconfiggere le sfide epidemiche mondiali due indicazioni certamente lungimoranti con cui abbiamo fatto i conti in questi due anni sul sogno di Europa di antifascisti un'Europa capace di assolvere pienamente la sua funzione originaria di baluardo della pace mondiale pensate come queste parole oggi suonano si fa sentire la mancanza di un processo serio di riconciliazione è il tema su cui si è soffermato Antonio Brusa dell'Università di Bari molti di voi lo conoscono perché ha partecipato a moltissimi nostri corsi di formazione e d'aggiornamento Brusa si sofferma sull'Europa orientale scrive su intere popolazioni che si sono alternate nel ruolo di vittime e di carnefici sulla difficoltà spesso di separare due momenti e ci mostra come nell'Europa orientale le memorie nazionali utilizzano una storia polarizzata che mette a fuoco solo i torti subiti e minimizza o tace su quelli perpetrati in un'escalation di rivendicazioni di rivalse memoriali di ripicche che fa rivivere nel presente i conflitti passati come potete comprendere sono temi vasti enormi e la domanda che noi ci siamo posti è questi tra l'altro sono soltanto alcuni fili che sono presenti nelle riflessioni contenute nel volume fili che però ci hanno aiutato a comprendere a decifrare il quadro complesso intricato di questi ultimi trent'anni e allora la domanda era ma è possibile insegnarli questi trent'anni la risposta dei nostri studiosi dei nostri esperti è stata sì ed è per questo che la seconda parte del libro è rivolta specificamente al mondo della scuola comprende il contributo di Carla Marcellini che per moltissimi anni è stata nel direttivo del nostro istituto nazionale nella commissione didattica formazione e Carla Marcellini ha focalizzato l'attenzione su come il triennio 1989 e 1991 è affrontato nei manuali della nei manuali di storia della scuola secondaria di secondo grado Antonella Ferraris invece offre due percorsi per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado percorsi che sono corredati da immagini da mappe da playlist musicali da sitografie e infine la proposta di Dario Sies che è docente di storia e filosofia dell'Iceopeano di Tortona nostro collaboratore da anni mostra l'utilizzo virtuoso delle piattaforme digitali nella secondaria di secondo grado con la realizzazione di un sito sulla caduta del muro e le sue implicazioni nei processi di globalizzazione degli ultimi trent'anni chiude il volume un inserto fotografico a colori molto interessante curato dalle stesse edizioni di falso piano io oggi mi sento particolarmente provata come immagino tutti voi ed è la seconda volta che mi accade che un'iniziativa bella importante come quella di oggi coincide con la data dell'inizio di una guerra ci è successo il 20 marzo del 2003 avevamo organizzato insieme alla commissione formazione nazionale un convegno che è durato tutto il giorno ed è quel mattino abbiamo appreso dello scoppio della guerra in Iraq nel mio cuore come immagino Antonella insomma e gli altri che mi parteciparono siamo ancora grati ad Antonio Cruz ad Aurora del Monaco che ci hanno accompagnati in quella giornata nel senso che hanno curvato le loro relazioni con attenzione a quello che ci stava accadendo sono grata fin d'ora in modo particolare a Luigi Bonanate ed ora capirete bene il perché sono davvero grata che oggi lui sia con noi perché il suo intervento sono certa ci aiuterà moltissimo a comprendere una serie di cose e anche un poco a riuscire a farci mantenere il distacco necessario per riuscire a guardare quello che sta accadendo lo dico perché perché nel suo lungo intervento e contributo il professor Bonanate che era partito utilizzando una serie di concetti di concetti o meglio di metafore che all'inizio ci avevano lasciati un poco non dico perplessi però incuriositi perché parlava di maionese di come funziona una centrifuga di che cos'è di come si fa una frittata ci ha parlato di terremoti di divorzi bene poi partendo da quel 1975 quando è giunto alla conclusione del suo intervento ragionando ovviamente su quella che potesse essere che avrebbe potuto essere la nuova architettura dell'ordine internazionale e concludendo con quell'immagine del puzzle di cui vi ho parlato ecco ci ha detto una cosa che avendo di fronte un pubblico di studenti ci ha particolarmente colpito però la sua sensibilità e la sua intelligenza hanno fatto sì che non ci dicesse la data e ora per questo io ve leggerò dieci righe che sono la conclusione del suo saggio l'ultima immagine che non era stata proposta all'inizio ma che forse è quella che più può colpire la nostra fantasia riflessiva è quella del puzzle nessuna scoperta come metafora è stata più volte usata ma bisogna dire che nessuno ha la più pallida idea di come questa nostra storia andrà a finire le tessere e il disegno progettato le abbiamo tutte non è che manchino dei tasselli ma come comporli appare enormemente problematico ci sono tantissime interessantissime ricerche di tipo statistico e quantitativo sul numero di guerre nella storia sul loro ritmo su chi sono i protagonisti su chi le vince e chi le perde e qui fu la frase che lasciò i nostri ragazzi e le nostre ragazze a bocca aperta ci sono anche molte previsioni sulla prossima guerra mondiale ma nell'incertezza è meglio che non le riveli ecco caro professore io non ti dico che non ti chiedo naturalmente di partire da qui però grazie davvero per l'aiuto che ci vorrai dare grazie a tutti grazie delle presentazioni poi smettiamola con sto prof prof insomma abbiamo un nome cognome tutti e basta naturalmente non posso non dire che sono ammirato delle vostre iniziative non so se tutti se in tutte le città o in tutte le province d'Italia si fanno iniziative come le vostre e tra l'altro vedo che sono presenti 51 persone 50 persone quindi vuol dire che 50 persone potranno speriamo trarre qualche insegnamento o qualche idea dal nostro dal nostro incontro non posso poi non unirmi sia ad Antonella Ferrari sia a Luciano Ziruolo se dico che parlare oggi è un po' diverso dal solito insomma questo lo sappiamo tutti stanno succedendo cose cose veramente terribili cose che io non vi nascondo ero ero molto più ottimista di quanto poi invece i fatti non mi abbiano costretto ad arrendermi ma naturalmente nello stesso tempo non ci lasciamo schiacciare dai fatti dai singoli fatti non è sempre detto che quello che noi vediamo sia capace di sprigionare anche il suo significato partirei però ma poi amplierei se posso se riesco il discorso partirei dal puzzle ma soltanto per fare una precisazione le tessere del puzzle un puzzle disfatto ha tante tessere che non si sa se uno poi riuscirà riuscirà a sistemarle e va bene ma il rischio che uno corre durante il suo lavoro o divertimento della formazione di un puzzle è avrò mica perso qualche pezzo e c'è sempre il momento in cui ci sembra che manchi quella certa formina e non riusciamo a trovarla tra quelle ancora e e poi andando avanti cioè se approfondiamo se riusciamo a cambiare a cambiare qualche pezzo finalmente si arriva a sistemarle tutte bene la sensazione che io ho oggi è che qualcuno ci abbia sottratto ci abbia nascosto delle tessere perché in questo momento io non sarei veramente ma non solo in quest'ultima settimana questa è ormai una sensazione ahimè piuttosto radicata nelle mie nelle mie riflessioni che non riusciamo più a far quadrare le nostre le nostre considerazioni a capire il significato degli degli eventi sono un pochettino in dubbio meglio imbarazzato di fronte all'ipotesi parlo del passato per arrivare al futuro o parlo del futuro per arrivare poi anche al passato perché oggi appunto la giornata pone sulle nostre spalle dei pesi non consueti allora io suggerirei se poi siete tutti d'accordo ma poi magari in un dibattito le cose possono raddrizzarsi o le tessere del puzzle andare a posto comincerei dall'oggi sul quale vi dico subito non ho tantissimo di particolare da dire ma che è comunque il continuiamo con le metafore è il dente è il dente dolente del nostro momento non sto naturalmente a specificare il singolo specifico evento ma lo proietto subito come mia abitudine o se volete come mio mestiere poi non so se io abbia sviluppato abbia fatto bene il mio mestiere questo lo giudicheranno o i posteri o i miei studenti del passato Antonella mi pare si ricordo bene ha parlato di più di 40 anni di insegnamento sono 46 o 47 ormai una cifra sono stati perché adesso sono logicamente un pensionato ma la mia abitudine è quella di inquadrare immediatamente un evento nel suo contesto questo del resto è ovvio ma non è del tutto ovvio perché il mio punto di partenza è siamo di fronte alla manifestazione della politica svolta da classi dirigenti che con una parola semplice e sintetica definirò di incompetenti naturalmente potrei dire usare parole molto più pesanti e anche molto più tecnico specifiche ma la mia la mia percezione della dell'attualità è oggi proprio che sia da una parte sia dall'altra guardate bene non ce l'ho solo se così posso dire con Putin ce l'ho con gli Stati Uniti moltissimo quando io uso questi nomi ovviamente di paesi non è che penso alle singole persone ma uso queste scorciatoie per fare riferimento a un paese a un popolo a una storia a una cultura insomma ha tantissime altre caratteristiche ma incomincierei forse forse questo il mio spirito un po' birichino e contraddittorio emerge anche anche in questo caso incomincierei però dagli Stati Uniti più che dalla dalla Russia e più che dagli Stati Uniti dovrei dire occidente ma l'espressione occidente mi sembra talmente eh è troppo ampia per poter essere eh usata tecnicamente però un pochettino consideriamo che eh nel nelle mie espressioni adesso farò riferimento a quello che è in effetti la posizione che quasi tutti di noi da dal confine diciamo della Polonia a ovest più o meno percepiamo percepiamo oggi della della situazione perché sono partito dagli Stati Uniti sono partito dagli Stati Uniti e poi forse ci ritorneremo eh più avanti e sono partito dagli Stati Uniti perché a loro sono intestati intitolati o imputati naturalmente io non do mai poi giudizio di valore sugli Stati e naturalmente eh posso posso cercare di dire se hanno agito coerentemente oppure no se sono stati razionali oppure no certamente i giudizi di valore devono devono stare fuori ma perché gli Stati Uniti perché gli Stati Uniti eh permettetemi un'altra metafora poi quando sarò morto farete l'elenco delle mie metafore eh perché gli Stati Uniti sono il grande eh orfano della storia contemporanea perché perché gli Stati Uniti che sono nati eh in questo nuovo mondo eh già già lo hanno lo hanno accennato le due colleghe che mi hanno preceduto il tutta la storia che io potrei approfondire quella che parte nel 1975 che ha una tappa fondamentale nell'89 una seconda grande tappa importantissima a sua volta anche se di natura diversa che è l'11 settembre e l'attacco alle torri gemelle e così via eh ma in tutti questi casi in tutte queste circostanze eh in cui gli Stati Uniti hanno sempre tenuto la posizione dello Stato dominante dello Stato egemonico dello Stato più potente più ricco più più sviluppato dal punto di vista eh sociale industriale imprenditoriale scientifico insomma gli Stati Uniti sono stati visti forse più nelle generazioni più vecchie come la mia adesso forse l'immagine era un pochettino meno meno splendente ma insomma il concetto è questo gli Stati Uniti sono sempre stati praticamente al centro di tutte queste vicende tra un attimo cercherò di farvi vedere perché anche nel settantacinque ciò sia vero ma eh fermiamoci un secondo al muro non oltre il muro ancora ma al muro nella nella il nove novembre ovviamente data che a sua volta utilizzo solo come come etichetta no? come simbolo è tutto un mondo che che cambia crolla non stiamo discutendo eh il nove novembre comunque che cosa succede? Succede che lo Stato più forte e più potente come ho detto prima che aveva in qualche modo guardato alla alla situazione delle due Germani delle due delle Germani divise tenete presente torneremo su questo su questo punto tra tra un attimo eh si trova di fronte alla eh dovremmo chiamarla la sua vittoria la Germania divisa vede crollare il suo muro non solo il muro viene fatto crollare per così dire da quella che allora si chiamava Unione Sovietica ovviamente è l'Unione Sovietica che rinuncia per così dire ma stiamo per adesso sul lato americano qual è la posizione americana del nove novembre la posizione americana è quella di chi ha vinto in una prima versione ha vinto senza combattere una meraviglia cosa c'è di meglio che ottenere una vittoria senza muovere un dito è impressionante se la vedete in questo modo la vicenda fine del bipolarismo fine della guerra fredda fine della contrapposizione tra stati liberal democratici e stati autoritario comunistica è impressionante tutto ciò non soltanto in quella notte ma in quella nella portata simbolica di quell'evento c'è tutto ciò gli Stati Uniti sono i vincitori ma non se ne accorgono cioè gli Stati Uniti credono di essere gli stessi di prima della caduta del muro di Berlino di essere la stessa superpotenza di avere la stessa presa e lo stesso impatto su tutto il resto del mondo e invece da quel giorno ovviamente io uso il tempo la storia un pochettino taglio a fette con l'accetta per così dire voglio dire che negli anni immediatamente successivi all'11 novembre incominciano a scricchiolare un mucchio di situazioni nelle quali anche gli Stati Uniti scusate tolto il golang anche nelle situazioni nelle quali gli Stati Uniti cercano più e più volte di intervenire credendo che sia se vogliamo dire tutto ciò in termini favorevoli agli Stati Uniti che sembrano impegnati o sentirsi in dovere di contribuire alla soluzione delle controversie internazionali che si aprono qua e là ricordo soltanto per stare ai primissimi anni del dopo 89 che abbiamo la situazione della ex Jugoslavia una guerra che dura quasi quattro anni e che di cui noi vedevamo e questo è un segnale abbastanza sgradevole di cui vedevamo in diretta i bombardamenti su Belgrado ricorderete di sicuro perché anche i più giovani hanno fatto in tempo già un po' a vederli adesso non so l'età media c'è la guerra nell'ex Jugoslavia c'è incominciano a ritornare i problemi che potremmo definire medio orientali per intenderci anche se un medio oriente allargato perché c'è il Kuwait c'è la guerra c'è la guerra di inseguimento che gli Stati Uniti fanno nei confronti delle truppe di Saddam quando fuggono dal Kuwait per tornarsene in Iraq per tornarsene a Baghdad cresce il terrorismo internazionale che gli Stati Uniti continuano a non capire che cosa significhi ma questi sono sono fatti loro e poi si arriverà un po' per volta all'11 settembre gli Stati Uniti sono in quel momento confusi dall'idea che fu espressa ed esposta con la sua straordinaria ingenuità lasciatemi usare questa parola così vaga dalla straordinaria ingenuità del presidente americano Clinton il quale andava in giro dicendo che ormai il mondo era cambiato che le guerre non ci sarebbero più state che la democrazia un po' per volta avrebbe conquistato il mondo e che la stessa Africa era sulla soglia dell'ingresso nel mondo nel mondo dello sviluppo dello sviluppo economico e quindi della sconfitta della fame delle malattie vivevamo secondo in quest'ottica nel migliore dei mondi possibili il migliore dei mondi possibili che veniva studiato in quel periodo e la cosa è patetica sedetta da un vecchio studioso come me veniva vissuta attraverso delle analisi che importantissimi centri di ricerca scientifica americana grandi istituti di ricerca con professori straordinari tra i più famosi e i più ascoltati al mondo avevano impostato sull'idea dell'america new american century cioè per il nuovo secolo e il secolo dell'america perché tutte queste scorie se ne erano erano successe tutte queste cosette ma un po' per volta finiva e dunque il ventunesimo secolo sarebbe stato il secolo americano poche volte ci si è svegliati più bruscamente di come è successo agli Stati Uniti svegliarsi ovviamente l'undici l'undici settembre ma da quel quello che interessa a noi in questa ricostruzione è che da quel momento in poi le cose hanno incominciato ad andare a rotoli è come se qualcuno avesse incominciato a far sobbalzare il tavolo su cui c'erano le nostre tessere del puzzle che sembravano già composte e ha scombinato un po' tutto dopo l'undici settembre abbiamo a parte abbiamo a parte l'invasione stupefacente e gravissima dell'Afghanistan da parte degli Stati Uniti non dimentichiamo che nell'inverno del 2001 e all'inizio del 2002 prima che iniziasse l'attacco gli Stati Uniti continuavano a dire che loro avevano semplicemente stavano semplicemente chiedendo al governo afgano sembra una barzelletta detto così al governo afgano di consegnare i due principali responsabili dell'attentato alle torri gemelle cioè Bin Laden e il Mullah Oman ora questi due signori erano come poi abbiamo saputo tutti e due ben lontani di lì adesso pare che nessuno dei due sia più di uno lo sappiamo per certo l'altro probabilmente più esistenti in vita ma l'attacco degli Stati Uniti in Afghanistan era da questo punto di vista dunque perfettamente inutile perché se per trovare due persone devi distruggere un intero paese per quanto un paese poco significativo per tanti motivi fosse l'Afghanistan insomma non era il modo di combattere tanto più che non trovato Bin Laden in Afghanistan cosa fecero gli Stati Uniti andarono a cercarlo in Iraq e poi insomma poi c'è tutto il resto insomma sto cercando di dire che le cose incominciano a peggiorare tutti i giorni c'è poi la crisi finanziaria ma questo è per darvi la sensazione scusate forse sono un po' banale o ingenuo per darvi la sensazione che dopo che era sembrato che la retta del progresso perpetuo dell'umanità avesse ricominciato a correre molto verso l'alto beh di colpo questa retta ormai lo vedete i nostri quotidiani sono tutti i giorni pieni di diagrammi quindi siamo abituati a vedere questi tipi di rappresentazioni improvvisamente quella linea che cresceva continuamente si è spezzata il punto a cui noi siamo oggi è la esattamente la rappresentazione grafica di quello che sto cercando di dirvi sembrava 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 ma non era vero non era vero e ne abbiamo avuti tanti segni perché appunto a cominciare dalla crisi finanziaria che fu una brutta botta per l'occidente essenzialmente a quella crisi lì corrispondeva intanto il mutamento non dico la crescita ma il mutamento di posizione della Cina sullo scacchiere internazionale che andava acquisendo sempre più la consapevolezza del fatto non tanto che la Cina stesse diventando una superpotenza ma del fatto che gli Stati Uniti non erano come certamente avete sentito dire a suo tempo la Cina a un certo punto si ritrovò in grado di far fallire dal punto di vista finanziario gli Stati Uniti perché se la Cina avesse messo sul mercato tutti i dollari che possedeva avrebbe distrutto il sistema finanziario statunitense e quindi il sistema finanziario occidentale quindi stiamo parlando di cose che sono solo sul pelo dell'acqua ma enormi importantissime la Cina non ne ha per così dire approfittato o non ne ha tenuto conto o ha capito che non era che non aveva tanto senso tutto ciò cammin facendo su questa strada noi abbiamo ritrovato in una posizione vi è più sgradevole ed antipatica il contraltare non nella contemporaneità ma così come ho detto di Clinton che non aveva capito niente del mondo come era ai suoi tempi l'altro grande personaggio che ha dominato la storia a partire dal famiglia si chiama Vladimir Putin lasciatemi dire che ne parlo con senso di sgradevolissimo imbarazzo credo che Putin sia uno dei personaggi più nefasti e negativi certamente della storia del ventunesimo secolo ma che è ancora relativamente corto ma della storia che noi abbiamo conosciuto fatto sta che Putin arriva al potere dopo aver fatto fuori e permettetemi di suggerirvi che quando dico fatto fuori voglio dire far fuori proprio come ci immaginiamo dopo aver fatto fuori i suoi avversari politici ed essersi circondato di di servi e di quei famosi oligarchi che sono pochissimi e che sono e che vivono nel veramente nelle vasche da bagno con le monete d'oro come come paperon dei paperoni perché la situazione sociale russa poi stavo per dire sovietica la situazione sociale russa è spaventosa i pochi ricchi sono straricchi ma tutti gli altri sono molto poveri e non dimentichiamo che nello stato sovietico un posto in ospedale per far assicurare e un piatto di minestra c'era per tutti adesso certi giorni non ci sono le minestre e certi giorni non ci sono gli ospedali la popolazione russa sta vivendo malissimo noi noi non non ci immaginiamo come come sia dura la vita quotidiana degli degli ex comunisti come dire fatto sta insomma Putin inizia questa sua campagna direi proprio una specie di di Napoleone ma Napoleone era più simpatico devo dire questa questa sua ascesa al potere assoluto vi ricordo che nel o l'anno scorso o due anni fa ha fatto approvare dalla Duma una riforma costituzionale in base alla quale lui può essere presidente della federazione russa fino al 2036 e lì dal 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 2000 36 vuol dire fare 36 anni di dominio io non credo se mi permettete una piccola divagazione io non credo che resterà al potere per 36 anni io penso che un giorno o l'altro cadrà o meglio sarà fatto cadere la storia la storia orientale specialmente ci insegna che soventi i dittatori e gli oligarchi sono stati assassinati o no Dio mi scampi dall'augurarmi qualche cosa del genere ma non credo che una situazione così possa essere retta da una società così in difficoltà come quella russa e dunque dicevo come puoi però mantenere il controllo su una società in queste condizioni soltanto e questa è una cosa di nuovo molto brutta soltanto con il nazionalismo soltanto e andate a vedere le dichiarazioni di Putin di questi ultimi giorni o settimane sono sono indecenti quando dice che lui vuole denazificare l'Ucraina denazificare come se lui fosse il nemico del nazismo ma potremmo dire che è un compagno di strada del nazismo e altre e tutte le affermazioni che Putin fa tutti i giorni sulle colpe e le manchevolezze del mondo occidentale dunque soltanto col nazionalismo tu tieni puoi riuscire a tenere salda una società ed è ovviamente la carta che Putin ha scelto di giocare naturalmente il nazionalismo a sua volta è per lui uno strumento è lo strumento per la costruzione o meglio la ri trattino costruzione dell'impero zarista guardate se voi prendete prendete una carta geografica che cosa vedete vedete le operazioni politico-militari di Putin rientrano tutte perfettamente nel tentativo di recupero di alcune delle cosiddette repubbliche socialiste che companevano l'URSS Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche questo vale perfettamente per la Crimea che certamente i più i meno giovani diciamo di voi ricorderanno era la riviera dei gerarchi comunisti in Crimea andavano a passare le vacanze i grandi cavi perché era una zona molto piacevole e godibile dell'Unione Sovietica quindi la Crimea già era Unione Sovietica questo getta già un po' di luce intorbidisce un pochettino l'immagine che noi abbiamo non solo della Russia ma del mondo intero e poi naturalmente la parte più a nord e verso nord-ovest per così dire dove c'è l'Ucraina dove c'è l'Ucraina che in parte rientra in una linea che voi potreste tirare che vada dalle ormai dimenticate repubbliche repubbliche del nord Europa Estonia Lettonia Lituania se voi tirate una riga che va giù dalla Lituania fino al al Bosforo per dire trovate che le operazioni putiniane si muovono tutte lungo quella linea comprendendo anche la Bielorussia la quale del resto è oggi a quanto ho sentito una delle zone da cui gli attacchi russi muovono verso l'Ucraina e poi la Bielorussia è sempre stata in realtà russa perché tutti parlano più il russo che lingue o dialetti locali quindi la situazione è del tutto particolare dunque di fronte a questa situazione che era lo devo dire non mi piace fare il profeta tanto più di cose già successe dove quindi fare i profeti e approfittare delle notizie già avute lungo questa questo programma politico che Putin si era dato si poteva ragionare e capire quale fosse il progetto russo mi si potrebbe opporre che durante la presidenza Trump per tornare agli Stati Uniti ma anche purtroppo mi spiace dirlo perché mi era molto più simpatico anche già durante la presidenza Obama il mondo occidentale gli Stati Uniti gli studiosi di relazioni internazionali che noi non dobbiamo fare politica ci mancherebbe ma possiamo ragionare sulle cose non si sono resi conto di con chi avessero a che fare la professione politica e lo possiamo vedere nella vita della politica italiana quotidiana dove voi non vedete mai fare un discorso scusate ma io spero di non essere ideologico propagandistico dove voi non vedete mai un progetto politico non vedete mai i politici che vedete tutti i giorni che vediamo tutti i giorni in televisione fare dei discorsi di politica ma fanno dei discorsi di strategia di convenienza star con questo star con quello andare di là lo stesso vale per la politica internazionale invece la politica internazionale è stata sempre considerata basta prendere in mano i quotidiani tolte nei momenti di grande crisi come in questi giorni alla politica cosiddetta politica internazionale viene dato sempre scarsissimo spazio ci sono sempre nella quotidianità della storia pochissime informazioni ma le informazioni sono esattamente quella specie di ossigeno forse che ci consente di respirare l'ossigeno non ha una funzione non ha una soggettività ma ha una strumentalità immensa se noi non ci occupiamo di politica internazionale tutti i giorni se noi non seguiamo le vicende internazionali e beh quando poi succedono queste cose restiamo lì attoniti stupiti un po' spaventati e forse anche un pizzico indifferenti vi faccio un esempio ma lo dico senza malizia negli ultimi due o tre giorni passati mi è capitato perché non sono un grande telespettatore mi è capitato di vedere il telegiornale non voglio dire il suo nome dico quello delle 8 delle ore 20 nel sommario cioè nello sviluppo delle notizie del quale la questione ucraina arrivò verso le 20 e 25 cioè verso la fine del telegiornale e io pensai quell'altra questa sera due o tre sere fa mi è stato ma per bacco questo è il segno che evidentemente il mondo politico il mondo la direzione la nostra le nostre direttive politiche sono convinte che le cose non siano particolarmente grandi ora non ne faccio una colpa di questo ma del fatto che manca e sempre mancate questo è tipico della storia internazionale e non è un fatto solo italiano ma se voi prendete alcuni grandi giornali internazionali e vi mettete a contare le notizie il numero di notizie non interna non di politica interna su ciascuno di questi quotidiani vedrete che il rapporto è all'incirca di uno a dieci tra i giornali italiani e gli altri giornali non è che non è che i francesi tedeschi gli spagnoli gli americani gli inglesi siano meglio di noi non sto facendo un discorso così banale ma questo è uno dei nutrimenti che noi dovremmo poter di cui noi dovremmo poter disporre per cambiare perché anche noi possiamo cambiare migliorare intervenire discutere non potete lasciarmi solo contro scherzo contro tutto il mondo perché non ce la farei mai per quanto è merito non ce la farei mai e quindi stando vabbè ho finito poi anche di prendere in mezzo anche i russi stando al primo polo del mio discorso uno stato che nell'89 ha vinto ma non se ne è accorto ecco abbiamo visto dove si è arrivato si è arrivati a una sorta di ignoranza progressiva quando noi diciamo che i nostri ragazzi quando i vecchi dicono che i nostri ragazzi sono meno colti meno preparati studiano di meno tutte quelle solite cose tipiche dei vecchi beh diciamo qualche cosa che ha a che fare con l'atteggiamento in politica internazionale avuto dal mondo occidentale e questo è quasi più importante che non il dibattito che noi possiamo fare in queste situazioni eccezionali detto in altri termini non possiamo svegliarci soltanto quando scoppiano le pompe è questo che mi addolora quando quando guardo il mondo il mondo l'ha guardato tutti i giorni ho già detto quasi tutto anche della Russia ma andava aggiunto che se da una parte c'è stato un vincitore che non ha combattuto e quindi ha avuto una grande fortuna e non l'ha saputo utilizzare dall'altra avevamo il secondo stato più potente più armato più intraprendente della terra quella che allora era l'Unione Sovietica che ha perso senza combattere ricorrendo a quello che possiamo ben definire era un suicidio nello spazio di tre anni cioè tra l'89 e il 92 quando viene fondato la comunità degli stati indipendenti CSI che poi esiste solo più sulla carta e poi adesso c'è la federazione russa invece in quei tre anni l'Unione Sovietica ha modificato i suoi confetti ha rinunciato in ordine di importanza ha rinunciato al suo chiamiamolo impero cioè agli alleati tutti gli stati dell'Europa orientale Polonia Ungheria Ciclovacchia e via di scorretto ha rinunciato dunque ha liberato i suoi i suoi servi e quindi ha rinunciato ha modificato i suoi confini ha modificato i suoi confini ha rinunciato a competere con gli Stati Uniti perché in quel punto era come un pugile Grogi ormai martellato dalla sua incapacità di reagire nella sua incapacità di reagire ha rinunciato al suo governo perché ha fatto ha distrutto distruggendo anche la vita di quel povero Gorbaciov che rimane secondo me uno degli eroi sfortunati e infelici del ventesimo secolo perché il suo sforzo era troppo in mani insomma lui è stato purtroppo designato dalla storia come il liquidatore dell'Unione Sovietica l'ha pagato caro perché è finito nell'abbandono nell'ignominia più nessuno lo considera invece è stato in realtà ha saputo gestire una situazione che poteva portare una rivoluzione una crisi sociale immensa invece questo non c'è stato ma insomma tutto ciò fa sì che l'Unione Sovietica addirittura avesse rinunciato al suo nome comprensibilmente non poteva più chiamarsi né Unione perché non era più unita tra tutti né Sovietica per ovvi motivi ideologici la Russia e la Federazione Russa avrebbe potuto da quel momento in poi iniziare una grande opera di ricostruzione ma è arrivato Putin e quindi mi fermerei su quel lato per un attimo per farvi osservare che l'ultimo l'ultimo errore degli Stati Uniti che a me continua a restare sempre incomprensibile e di una di una ingenuità veramente paradossale è che una volta finita la crisi del mondo socialista ex socialista che era poi il sogno dell'Occidente la guerra fredda che cosa era era il tentativo degli Stati Uniti e dei suoi alleati di spingere indietro la Russia che allora era l'Unione Sovietica il rollback lo troverete nei libri di storia della politica esteroamericana spingere indietro ma andare via e questo è esattamente quello che è successo perché oggi quei confini che vi dicevo della Russia sono di adesso io non so fare bene i conti ma di 2-3 mila chilometri più arretrato cioè la Russia si è spostata più a destra quindi allontanandosi dall'Europa dall'Occidente dall'Europa occidentale ora perché mai in quella situazione la Nato cioè l'organizzazione militare di aiuto reciproco dei paesi legati agli Stati Uniti perché mai la Nato decise di offrire all'Ucraina l'ingresso nell'organizzazione militare ma perché che bisogno c'era gli Stati Uniti avevano fatto una birichinata del genere già tanti anni fa e anche questo mi porta a dire insomma che quanto è importante la storia che non è importante nella sua specificità evenemenziale cioè i fatti i fatti che noi ricostruiamo storicamente ricostruiamo ma l'aveva già fatto con la famosa storia che anche i più giovani l'avranno almeno probabilmente sentita nominare dei cosiddetti euromissili cosa fu la questione degli euromissili che nasce nel 79 la questione degli euromissili rappresentata dal fatto che gli Stati Uniti decisero di circondare l'Unione Sovietica partendo da nord e quindi da Estonia e Lettonia e Rituania di Popperin per arrivare fino alla Turchia compresa la Turchia compresa che faceva parte della Nato di tutto questo questo arco no? della che circondava metà della del territorio sovietico per così dire di installare delle basi di euromissili quindi missili di media portata non i missili da grande guerra ma che dovevano essere le sentinelle insomma della libertà occidentale ovviamente non solo questo poi non successe ma creò una gravissima crisi politica nel nel mondo perché per l'Unione Sovietica era un insulto assolutamente intollerabile per fortuna l'Unione Sovietica era entrata nella sua quasi crisi crisi terminale eravamo ai tempi di Bresnik che fu un segretario generale del partito comunista dell'Unione Sovietica pressoché cieco muto e sordo era un vecchio che era messo stato messo lì soltanto per per la facciata mentre ben altri erano che comandavano ma insomma già già una volta gli Stati Uniti ci avevano provato e li andò male perché ne vennero fuori diverse altre diverse altre difficoltà ma questa volta perché l'Ucraina è vero che gli ucraini vedevano con grandissimo favore il passaggio alla NATO ma non per motivi militari ma perché questo voleva dire entrare nel mondo occidentale nel mondo più ricco nel mondo più agevole dove i commerci le attività il tutto sarebbe stato meglio l'Ucraina avrebbe potuto diventare un partner simpaticissimo per l'Occidente senza bisogno di metterlo nella Nato ormai se ne parla più poco ma gli strumenti militari di cui Stati Uniti Russia Cina e la stessa in parte ovviamente molto molto minore Corea del Nord sono strumenti che dispongono che danno la possibilità di fare qualsiasi terribile cosa la potenza delle armi nucleari dei missili di adesso è spaventosa pazzesca che bisogno c'era di fare questa di costruire questo film dell'esigenza di difendere l'Occidente nei confronti della Russia con l'invito all'Ucraina di entrare nella Nato tenete presente che tra l'altro c'è un'istituzione che si chiama Partenariato per la Pace che esiste è un'istituzione esistente nella quale ci sono tantissimi stati ovviamente quelli occidentali quelli ex socialisti e così via che è sponsorizzata dall'ONU dall'Unione Europea dal Consiglio d'Europa dedicato Partenariato per la Pace dedicato a fare da 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 cuscinetto di intermediazione continua tra nelle varie difficoltà internazionali quindi volendo si poteva utilizzare questo tipo di di istituzione per proprio per farle intervenire in modo in modo da sopire sanare ridurre le tensioni internazionali mi viene in mente in questo istante che io ho iniziato a parlare e forse potrei parlare anche altre 4 o 5 ore ma abbiamo dei limiti suppongo io quando devo smettere ci sono i capi qui della nostra riunione che me lo dicano quanto tempo devo avere ho ancora ci sono ci sono i capi insomma c'è anche Luciana ma io sono un putiniano oggettivamente ascolteremmo per ore ma mi volete morto no non non la vogliamo morto per carità perché la la sua saggezza e le cose interessantissime che ha detto insomma sono sono d'accordo ma voglio dire ci saranno dei dei forse potremmo chiedere ai colleghi se ci sono delle domande perché se vogliamo cominciare così può essere Antonella se vuoi indicare la modalità dunque la cosa più semplice sarebbe scriverla in chat e io le così facciamo un minimo di ordine perché sicuramente ci saranno molte domande e io le passo direttamente al professor Bonanate e questo è il modo migliore come sempre per azzittire tutti anche per iscritto comunque considero intanto che avete avuto un bel successo perché 54 beh forse togliamo noi noi dello staff per così dire certo ma comunque più di 50 persone sono guardate che a Torino fai una cosa così ne arrivano 15 ecco per stare in Piemonte eh beh sì certo intanto che i colleghi e le persone collegate e c'è anche uno studente pensano eventualmente intanto che lei parlava io io pensavo proprio a questo discorso che lei ha fatto non tantissimi minuti fa proprio sull'arretramento della Russia verso verso est e questo in qualche modo potrebbe influenzare anche eh le politiche di Putin in Asia ma magari è una domanda che non c'entra assolutamente con il nostro c'entra c'entra e come ma intanto mi ricollego al riferimento che mi pare Ziruolo ha fatto nell'introduzione alla mia battutaccia sul fatto che non vi dicevo quando sarebbe scoppiata la prossima guerra mondiale non eh non mi non mi smentisco non ve lo dico non posso guastarvi anche questa giornata ma posso dirvi se per caso avete intenzione di fare un nei prossimi beh x anni se avete intenzione di fare del turismo in in Asia vi sconsiglierei caldamente poi mi direte se avevo tra cinquant'anni mi direte avevo avuto ragione no così con cinquant'anni ecco possiamo dire che prima di cinquant'anni ci sarà ecco quindi ho ridotto un pochettino no lo spazio ma se se in questi cinquant'anni che ci aspettano evitate di fare una vacanza in Kazakistan beh avreste tutta la mia approvazione ecco se voi prendete la carta geografica è tolta oltre quella lì grosso ne ho una qui che mi tengo sempre sotto il mano perché è fondamentale cosa scoprite? scoprite che il Kazakistan confina per quasi la sua metà con la Russia e poi confina più o meno adesso non vorrei mancare di rispetto agli altri stati confina con con l'India ma con in mezzo con in mezzo la Turchia quindi adesso la dico un po' in modo grossolano ed è una delle terre più ricche di beni naturali che esistono sulla faccia della terra in Kazakistan che è un paese infelicissimo cioè dove c'è al solito un dittatore il quale il quale si fa costruire immensi monumenti alti quasi centinaia di metri la popolazione ci sono soldi per tutti perché il paese è ricchissimo è ricchissimo di petrolio di gas di oro di rame di tutte le diavolerie più necessarie per lo sviluppo industriale del mondo lì ci sono ora per così vedi che non era una divagazione immaginiamo che uno dei grandi paesi che ci sono intorno al 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 Kazakistan ovvero come ho detto a nord la Russia a est guarda caso ma per bacco c'è la Cina a sud c'è l'India e il Medio Oriente a ovest c'è l'Occidente cioè gli Stati Uniti che misero piede sul continente nell'Europa nei Balcani per la prima volta alla fine della guerra in Jugoslavia ai tempi della guerra del Cosmo quindi alla fine del secolo in sostanza dunque se da questi quattro punti cardinali ce ne fosse uno che ha dei problemi di sussistenza dove va a cercare aiuto se uno ha bisogno di petrolio dove va a cercare in Kazakistan c'è nessuno praticamente in Medio Oriente è molto più difficile entrare senza fare senza avere troppi problemi in Kazakistan se la vuoi occupare la occupi in due giorni ma sul serio dunque se uno va però questo scatenerebbe ovviamente la risposta degli altri tre poli e che dunque che andate dovunque non ho nulla contro i Kazakhi che poi attenzione Kazakistan Kazako i Kazakhi erano gli Usseri quindi gente un po' bellicosa nel nostro immaginario dunque il rapporto c'è chi ha un po' meno bisogno di tutto c'è la Cina perché a sua volta è abbastanza ben fornita però la Cina è anche molto grande è anche molto popolosa e quindi i problemi possono venire da quattro lati e il Kazakistan è al centro e non dimenticate per chi avesse volesse prendere in considerazione anche questo punto il Kazakistan è più che altro se ricordo bene nella zona del del lago Darar è la zona dove si dove si raccontava si racconta fosse avvenuto l'episodio dell'Arca di Noè che è un po' come dire è il ramoscello il germoglio della storia universale nella narrazione universale è una delle primissime dopo Adamo e Deva adesso sto come al solito dicendo le cose in modo suggestivo più che tecnico ma l'Arca di Noè che cosa è? è che non si possono salvare tutti mettiamo i migliori sulla e il problema grosso lì è che chi lo decide chi sono i migliori lo decide il padre eterno e questo a me può inquietarmi un po' perché io per esempio non verrei mai scelto allora sono arrivati in effetti un po' di domande intanto allora la prima non a caso della professoressa Serra verte sulla Cina che giudizio l'hai dato attualmente sulla posizione sulla Cina della Cina avrà un profitto economico un profitto in qualche modo da questo conflitto dunque oggi è una pessima giornata per le mie performance ottimistiche io sono noto per essere un inguaribile ottimista sono sempre contento degli altri mi va sempre tutto bene e questa volta non va bene neanche la Cina Xi Jinping sta dando una svolta autoritaria cioè ha dato ormai non è solo che la stia dando al suo paese che mi rattrista moltissimo io non solo non sono mai stato comunista ma non sono mai stato un esaltatore di Mao Tse Tungo di Chuen Laio di quel mondo lì ma i successori e le trasformazioni immense che la Cina ha saputo in fondo realizzare meglio che l'Unione Sovietica perché come dicevo prima l'Unione Sovietica ci ha provato a farlo in un colpo solo col muro di Berlino ed è andata come è andata la Cina ha saputo la lunga marcia di Mao è diventata anche la lunga marcia dei regimi comunisti in Cina che erano ogni giorno un po' meno comunisti o meglio in cui la parola l'idea comunista ogni giorno si attenuava e questo tutto sommato adesso forse sono uno sporco reazionario ma tutto sommato mi sembrava una cosa conveniente vantaggiosa per tutti quanti negli ultimi negli ultimi anni questa operazione di imborghesimento vogliamo chiamarla così del governo cinese e ha fatto dei passi da gigante ma ne ha fatti troppi e li ha fatti in una direzione sbagliata cioè in una direzione scorretta secondo me perché non è andato non ha incominciato a camminare verso la democrazia anche solo la democrazia occidentale questo questo della democrazia sarebbe il capitolo più importante che noi potremmo oggi discutere ma questo sarebbe davvero chiedere troppo alle mie forze ma il problema della democrazia occidentale badate beh non ce n'è altra è in giro per il mondo ma badate che le democrazia gli stati democratici occidentali sono molto meno democratici di quanto noi siamo abituati a pensare ma vi sembra che un paese adesso facciamo finta che l'Italia sia il Kazakhstan proprio per liberarci di ogni coinvolgimento ma vi sembra normale che un paese che ha nella sua costituzione che le elezioni si fanno ogni cinque anni non le facciano è gravissimo questo non è il problema di uomini cioè se deve essere un presidente vecchio che diventa vecchissimo o altre cose no è il principio noi la democrazia è una cosa di questione di principio se noi non rispettiamo i principi poi tutto il resto diventa un simulacro è falso nella nostra costituzione c'è scritto tanto per stare più vicino al nostro tema c'è anche scritto che l'Italia ripudia la guerra come strumento di soluzione delle controversie internazionali allora un insegnante ha giusto chiesto se la recente crisi sociale proprio in Kazakistan può essere come dire l'inizio una minaccia proprio del tipo di conflitto di cui ha parlato il professor Bortolini certo questo questo l'Italia ha partecipato a una bella quantità di missioni di missioni militari certo negli anni tra l'altro non per farmi propaganda anche perché non so se si trova ancora questo libro ma nel 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 19 l'editore Caroccio ha pubblicato una serie di 12 volumetti sui 12 principi fondamentali della costituzione tra i quali quindi c'è l'articolo 11 l'ho fatto io quindi in quel libretto racconto proprio tutte le malefatte dei nostri governanti per quanto riguarda quello ma per tornare alla Cina la Cina lo dicono tutti e quindi dico la cosa più banale della terra è la grande incognita ma è grande incognita perché aveva fatto grandi progressi ma ha smesso di farli si è lanciata in una spesa militare molto alta a differenza dal passato quando si preoccupava semplicemente di avere una capacità di resistenza di opposizione ma non di iniziativa adesso hanno anche loro dei missili straordinari che sembra che abbiano delle capacità di velocità pressoché doppie di quelle occidentali ora capite che il problema non è fare in fretta ma è non essere raggiungibili i missili si combattono con gli antimissili che sono però degli altri missili a loro volta che vanno a colpire il missile che vuoi colpire se quello va troppo veloce tu non lo raggiungerai mai per cui la corsa alla velocità e l'hanno fatta i russi e i cinesi la stanno facendo è un elemento molto importante e sicuramente questo tipo di competizione lo vincerà la Cina perché la Russia è un paese fatto l'industria le ricerche scientifiche in Russia sono in condizioni penose esempio il virus il vaccino anti-covid se fosse stato migliore di quello occidentale la Pfizer o chi altri l'avrebbero copiato ma nessuno ha copiato il vaccino russo perché perché la Russia non ha la capacità oggi di esprimere non è che i russi siano meno bravi degli altri ma non hanno oggi la capacità socio-psichica per così dire di 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 lanciarsi in grandi imprese positive per l'umanità metto insieme due domande perché ci portano tutte e due nello stesso scenario la prima dice al di là delle eventuali colpe degli Stati Uniti non sono complici della politica espansionistica russa le politiche sovraniste di molti stati europei e anche le divisioni interne nell'Unione europea e la seconda le sanzioni che l'Unione europea si appresta ad approvare nei confronti di Putin possono essere un deterrente per un ulteriore escalation della guerra o sono solo un pagliativo perché dice impedire il semplice impedire alla Russia di commerciare il gas con l'Europa perché hanno già chiuso il North Stream 2 se non vado errato avrà effettivamente effetto o visto che oramai il suo maggiore interlocutore economico è la Cina non gli darà più fastidio più di tanto fastidio? Certo dunque sono due questioni ugualmente importanti che fanno parte del quadro attuale l'Europa l'Unione Europea il sovranismo queste cose sono tre aspetti di uno stesso problema e che continuo anche se io non userei mai le brutte parole che usa una politica o meglio una politica una signora politica italiana sul fatto che l'Europa è un nano politico strategico l'Europa l'Unione Europea in particolare è semmai una grande preoccupazione è un grande dispiacere l'Unione Europea è una grande idea ma una grandiosa idea una grandiosa idea addirittura di matrice kantiana per se vogliamo metterla in termini un po' più pesanti e poderosi l'Unione Europea ha fatto un mucchio di belle cose ma si è portata dietro anche tutti i difetti che tutti i singoli stati membri avevano a casa loro per cui oggi se ci pensiamo è possibile che a Bruxelles o a Strasburgo il Parlamento discuta molto di più del tipo di occhiali che io sto portando adesso che non del futuro dell'umanità si è spezzettata in mille rivoli anche utili ci mancherebbe ci sono tante cose l'ecologia l'ambiente va benissimo ma così facendo ha perso la capacità di avere un'incidenza politica sul mondo e questo purtroppo è vero quando in paesi come l'Italia si è tanto parlato di sovranismo non dimentichiamo che il giochetto del sovranismo in Italia si è incominciato a fare dai tempi della padania di Bossi quindi parliamo ormai di una storia piuttosto vecchia e questo sovranismo quest'idea della propria nazionalità ma perché mai se mi passate un minuto di scherzosa memoria qualche anno fa c'è un'associazione di storici in Italia spero adesso mi attirerò addosso qualche terribile vendetta un'associazione di associazioni degli storici contemporaneisti in Italia io la fisco come la fisco eh sì non lo so non me lo ricordo sì 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 quella io che non sono un politologo vengo invitato a fare uno dei discorsi iniziali perché quell'anno era la nazione il tema non sapevano che in che grana si erano messi perché perché io ho preparato la mia relazione poi ho preparato la mia relazione che era un inno di antinazionalismo ho cercato di mettere insieme tutto il male che si poteva argomentare scientificamente parlando naturalmente del nazionalismo ho fatto persino un esempio ve lo ve lo ripropongo ma può sembrare sgradevole ma io l'ho fatto con la massima onestà intellettuale in quel periodo era appena mancato Sergio Marchionne la stampa il quotidiano la stampa di Torino titola a nove colonne sono ancora nove non lo so una volta si dicevano titola a piena pagina è morto un italiano io trovai e continuo a trovare quel titolo di una volgarità sgradevolissima è morto un grand'uomo se lo giudichi così è morto un personaggio importante ma perché chi non è italiano non è degno di morire non è degno di essere ma come si fa ovviamente a me non mi interessava la persona mi interessava il significato del messaggio ma cosa vuol dire è morto un italiano se era un casaco non ce ne fregava niente sul piano della morte e beh venne praticamente linciato questo fu il risultato di questo convegno io dovetti andare via subito dopo la mia relazione perché avevo un altro convegno da sciropparmi che quello era a Varese quell'anno lì ma so che quando io sono andato via si sono tra l'altro un po' sgradevole si sono levate grida di condanna e di maledizione nei miei confronti pazienza però sono ancora qui tutto su ma il nazionalismo è veramente una delle bestie più brutte tra l'altro l'ho già detto prima il nazionalismo è anche uno degli strumenti di governo di Putin è chiaro se tu sei povero maltrattato non considerato cosa ti rimane la patria ti rimane solo quello e quello è il gioco che tutti fanno quando nei regimi nei regimi tendenzialmente autoritari le sanzioni non sono né buono né cattivo economista non c'è nessun dubbio però che a differenza per esempio con l'altro caso storico più significativo che era quello delle sanzioni nei confronti del Sudafrica dell'Apartheid che era più una questione morale che una questione sostanziale era importantissimo ma il Sudafrica se la se la se la cavò abbastanza bene cioè riuscì a continuare a essere indifferente agli appelli che lanciavamo noi ma nel nel caso attuale il tipo di interventi che che vengono proposti per adesso sono piuttosto pesanti sul piano finanziario perché se se sarà vero se andrà così o non so come funzioni poi anche tecnicamente che il commercio internazionale della Russia sarà gravemente ridimensionato perché perché non potranno usare se potranno se gli vengono bloccati i conti in dollari nelle banche europee statunitensi queste cose possono nello spazio di pochi mesi mettere in ginocchio un paese povero per cui è possibile per per cui secondo me è possibile che funzioni ma nello stesso tempo possono esasperare altra metafora un animale ferito è ancora più incontrollabile incontenibile che un animale sano per cui insomma non vedo grandi buone prospettive nel nostro immediato mi spiace dirvelo ma la vedo un po' così l'ultima domanda che ho qui in chat riguardo la Turchia la Turchia andiamo di bene in meglio qual è al momento la posizione della Turchia la Turchia ha il controllo degli stretti effettivamente e quindi la possibilità di controllare anche un eventuale spostamento delle navi russe dal Mar Nero verso il Mediterraneo certo in termini di fatto direi che la Turchia oggi non ha interesse al Mediterraneo ecco per cui non credo che vengano di lì dei problemi il problema della Turchia è invece la Turchia cioè il governo turco Erdogan dopo Putin è forse uno dei due o tre peggiori statisti al mondo la Turchia per certi versi è uno dei paesi più arretrati della terra il governo la politica di Erdogan è disgustosa nel migliore dei casi e certamente e non dimentichiamo che la Turchia è la cerniera tra l'Asia l'Europa asiatica insomma l'Europa e il Medio Oriente cioè sopra la Russia e sotto c'è l'Arabia Saudita Israele e io penso che Erdogan va di più alla parte diciamo territoriale che non alla lotta marina credo che sia più interessato più interessato a contrastare Iran e questi altri sul piano territoriale però più che nella guerra marittima anche perché la Turchia dovesse mai combattere una guerra sul mare non mi sembra che avrebbe le risorse sufficienti per contrastare perché lì si troverebbe immediatamente di fronte di fronte anche alla marina militare dei paesi europei cioè Spagna Francia Italia e così via quindi non penso che di lì venga un grande problema viene una grande tristezza un'altra delle grandi ferite della democrazia nel mondo contemporaneo il fatto che Erdogan si faccia leggere di volta in volta sono sempre lezioni truccate anche quelle io tenderei a chiudere con un consiglio chi vuole si legga il mio il mio saggio su quel libro perché le cose che posso adesso aver detto in modo un pochettino troppo veloce lì probabilmente perché la cosa importante era ritornare ma non ho fatto in tempo evidentemente al 1975 che è la data di inizio di questo la data segreta cioè il concepimento se così posso dire del nuovo mondo che però doveva ancora nascere e nascerà poi nell'89 però lì almeno anche questa parte è trattata certo daremo ai partecipanti manderò una mail in questi giorni con una diciamo una breve bibliografia con cui potranno approfondire che non sia un penso per loro no no con cui potranno se lo desiderano approfondire quello che abbiamo detto oggi va bene io Luciana ti lascio l'ultima io ho un saluto da parte del nostro presidente che purtroppo non può collegarsi del presidente dell'Israel Mariano Santaniello che purtroppo per ragioni di lavoro non può collegarsi ma salutatemelo voi ecco saluta il professor Bonanate e saluta ovviamente tutte le persone che sono qui con noi oggi lascio l'ultima parola al direttore ma l'ultima parola per me è soltanto un ringraziamento a tutti i colleghi e le colleghe che ci hanno accompagnati in questo primo incontro del nostro ottavo corso di Geostoria e l'ultima parola è un grazie davvero da parte mia da parte dell'Israel ma da parte di tutti noi perché lasciamelo dire caro professore anche questa sera ti sei speso al solito non solo con la tua competenza ma con la tua passione col tuo cuore e con la generosità che contraddistingue sempre i tuoi interventi se Antonella vuoi soltanto richiamare il prossimo incontro il prossimo incontro sarà permettetemi di a parte ringraziare voi due per l'accento sul mio lato psico psico personale in effetti è vero io ho fatto questa vita è così è così ti vogliamo bene per questo anche anche per questo grazie davvero grazie ancora a voi grazie davvero noi ci vediamo il primo marzo con alla stessa ora quindi sempre alle 16.30 con il professore Eric Gobetti che ci parlerà di un altro mondo abbastanza in fermento che è quello dei Balcani